Benvenuti rossi e rosse, qui Chris Lurett e oggi siamo su Darkest Dungeon, un gioco che mi ha sempre incuriosito per la difficoltà leggendo i feedback, quindi incominciamo subito cliccare sulla lettera, incominciamo, eh ok, eccolo qui, mettiamo l'unome e si parte, vediamo un po' You will arrive along the old road It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside Leading only, I fear, to ever more tenebrous places There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably Transcendent terrors So steal yourself, and remember there can be no bravery I'm sorry, without madness The old road will take you to hell, but in that gaping abyss We will find our redemption Non ho capito molto, però vabbè Beh, disegni Si, si può dire, bello a cartone, fumetto Il borgo Una volta è ritornato al borgo, cerchi di controllare il diario dell'attività per vedere cosa è successo in tua assenza Ah Ah, così Si Si inizia con... Eh, porca miseria, però Vabbè Mmm Quasi si va avanti Seleziona una stanza di direzione sulla mappa Ecco qua Mentre i brigandini hanno rinforzato queste leggi Sì Mentre i druggani hanno rinforzato, andiamo a direzione Mentre i druggani hanno rinforzato, andiamo a direzione Avanti e indietro, andiamo a direzione Va bene Avanti e indietro, eh, preferisco E Sì 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 Sorpresi Sì 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 Ah ok 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 Abbiamo Dismas Brigante Apertura delle vene Esplosione a grappolo Bolo Vado di apertura delle vene te resisti invece Reinaldo il crociato colpo stordente vabbè sul sicuro morto qui qui è tutto facile questo sarà una specie di tutorial ok oggetti interattivi curiosità mentre esplori trovare spesso oggetti interattivi fai click premi doppio dà un'occhiata a questa tenda i banditi ok i banditi ne ero uno ne ero uno i soldi oro corrompe costruisce peri e istica gli omicidi hai capito ok ah vedi la mappa ma ditemelo ecco qua il capo dei capi il capo dei capi il capo dei capi è ritorno e il capo dei capi è fin qua bioggia di fruste vediamolo invece che cosa mischia versione 85 sì sì 15 danno empio questo non è un empio è umano accusa zelante moderazione danni forse ha fatto agli meno danni troppo stordente precisione in base 90 moderazione danni 75 stordito al 100% vediamo un po' preso ah vedi 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 no così ragionandoci sopra si capisce esplosione al grappolo ok questo prende tutte e due in teoria perché è di targhetta tutti e due questo no ragazzi vai hai capito bravo Dismas oh ci rispondono noi abbiamo il crociato però il crociato dovrebbe non lo posso attaccare quello che è allora ci diamo prima lui vabbè io è bravo ok non c'è manca poco vai tutte e due ok lui adesso Reinhardt ci uccide lui e lo prende allora ogni prossima ma resteranno i loro catacoli i catacoli potranno scomparire naturalmente ma attaccandoli sbanniranno prima perché i mostri eccessivi non avvenimento non lasceranno nessun cadavere ma perché ci fregano ah che sennò non viene in banca eh porca miseria questo è di vendaggi eh vai di pistola colpo singolo presto sui bambini ok bravo dismasse oh il loot 11 nero come la notte senza film valore 500 cada uno vita ah vedi ok il cibo l'oro che corrompe e lo stemma che non se sa ehi completata una missione dopo aver portato a termine gli obiettivi della missione potrei tornare in città in qualsiasi momento ok che caso non viene bisogna tornare ma va bene completata ritorno al borgo continua perché io ho visto eh eh volevano c'è sta il forziere qui apri ecco e porca eh si è avvelenato vabbè io tanto me ne vedo la presa in giro attenzione ma questo è il resoconto un pezzo di missione bei soldi bei soldi due pie due pie bravi tutti e due via eh sembra carino sto gioco allora è strutturato bene questo parla senza sottodito apprendista apprendista vedi ci stanno i gradi livello 1 obiettivi del custode ecco se so i obiettivi del mondo proprio eh prima ci arrivo trovo aiuto ma vedi vabbè ok pigiamo pigiamo sui punti esclamati ok così r e la gente va bene quindi ah ci stanno rat di geber e nell'ond carovana ah vedi gli aggiornamenti aumenta il numero di regole disponibili le modifiche saranno attive ritorno alla tua rasmissione aumenta le dimensioni nella tua lista degli eroi eh ad questo punto vado di questo great heroes can be found even here ce ne stanno da più sono gratis allora io riprendo tutto oh vedi eee qui memoria degli antenati guarda le memoria ok prologo vabbè queste sono le memorie nostre questi mi sa che sono i boss infatti percorso dell'antenata guarda che so principe suino una sirena mandami ancora missione ma non ti ho mai mandato missione stai buono cimitero most will end up here covered in the poisoned earth awaiting merciful oblivion ma ma cimitero ancora non è morto nessuno quindi va boom si parte proprio così completa missione missione va a partire va a partire la prima missione cos'è questa oscuro lascia verde eh sì lascia verde però io però ho letto prima che ognuno ha la sua posizione preferita ah vedi il cambio vestito eh reinald il reinald lo famo bravo reazzo allora lui piace stare avanti ok fin qui ci siamo lui dietro ovviamente mettiamo qua per ora vediamo l'altus ecco lui è ancora più dietro radgeber e poi nell'ond nell'ond eeeh boh questa è un po' strana mettiamogli rosso rosso domino questo vediamo se no pari vabbè eh per ora la formazione è questa i soliti sospetti non si sa perché rifornimenti la grande giusta per questa seconda della zona mi fai parlare della missione a seconda delle tue preferenze porta sempre lonti il cibo e torce cibo e torce otto razioni di cibo e quattro torce e non gli chiamo retta boh basta troppi soldi poi ok la tua prima spedizione nelle rovine dei tuoi antenati si curioso ma con prudenza figlio e io vado a schermata dell'eroe immagino un ritratto di un eroe per mostrare schermare dei dettagli dei tratti dell'eroe e le sue abilità e le resistenze quindi tasto destro e si vede tutto vabbè un compagno riduce lo stress abilità di accampamento non so che cos'è vabbè state bene si si parte sceglie la zona ok cioè no sembrate vabbè e allora hai recuperato una torcia non bruciata tuoi da prendere ah ok luce radiosa 72 vedi esplorazione più più mostri sorpresi più più apriamo la porta la porta attenzione chi è tocca subito rot c'è berro esposione di civa resistione 95 danno 80 no addirittura poi allenamento allora avvenimento lui non è vero non ha più resiste pure questa cura buono cura il gruppo lui c'è baiato è per ora questo non è la 70 va bene stordito ok con lui facciamo la solita mossa combo attacco vai dietro mamma mia Renald chi è? e chi è? veleno mamma mia sempre Raittedber 150 forziere attenzione su come la scena chiusa vabbè io apro poi se la trappola eh la pala la vanga lo sai io sta qui vabbè 100 oro e siamo tutti felici il morale alle stelle ce ne andiamo su continuiamo scommetto e qua tocca usare una vanga e io la uso bravi tutti e qua collaborazione ragazzi eh lo sapevo tantissimo stressante la torcia la luce sta servendo il livello corrente della torcia influisce fortemente su molte meccaniche di gioco e se fa buio quelle cose si fanno difficile la rinunanza sarà maggiore però vabbè fai più che adesso su una torcia devi mettere per aumentare va bene abbiamo visto prima granata presidenza che voleva attaccare più in lontananza e noi lo facciamo avvelenato non apposta oh quanti ne fia oh tutti adoro il dis una bestie fermatelo blocco subito schifato mamma mia il dis non fra lui aia reinald però pure insomma fai un bel critico colpo di pistola non stordito mamma mia subito leader leader che veniamo un'altra volta ma che bestie prendiamo l'oro vecchi divinto d'olio di qualche lontano parente eh va bene eh va bene eh va bene dopo glielo ridiamo un'altra stanza ricognizione attenzione cos'è ci hanno svelato le carte eh andate in stanza dello scontro eh io vado alla stanza del tesoro eh scusate mica so scimm però penombra più stress più precisione danni mostri quindi ci menano a noi e noi sorpresi più bottino più critici ci abbiamo però se io aumento più esplorazione mostri sorpresi noi eh per ora è meglio non rischiare cos'è la chiave aprire le porte forse apriamo la porta ah ma che forse di questo il tesoro c'è un nemico bravo stessa tattica di prima avveleniamo esplosione graffi tutti e tre tu eh però questo vado tosto voglio bloccare un attimo resiste eh ci ho fregato guarda mi morì non sai ma sono incantesimi stessi come succede però che se si è stressa oh io vedo una barra e se rientro c'è sotto marus scendente dismassa non fare scherzi gramma ce l'hanno con lui mi ha scritto del boss posso fermare l'emora ragia eeeh vai combo vabbè ho giocato l'offensive curare non ho niente è venato è avvenuto soldi cibo stanno è mo' il vero tesoro ma stanno un po' questo mi sa che si sa come per aggiornare gli edifici della base ok noi siamo entrati eeeh andiamo qua scurare il 90 che è successo perché aaa è mo' porca miseria bisogna un curallo il cibo vedi mangia mangia disino mangia ok le trappole scoperte saranno liberibili letteralmente ci avvicini seleziona l'eroe l'eroe ok quindi sono migliori ok chi è il migliore qui trappola 50 trappola 20 trappola 10 eeeh mi sa che Dismas è tutto fare eeeh allora vada eeeh infatti allora Dismas voto 9 qui c'è nessuno quindi questa qui è facoltativa credo per esplorare vabbè noi siamo amanti del pericolo forse attenzione disma attenti qua ok altro scontro prepariamoci eeeh è buio oh questo però l'abbiamo sorpreso stranamente via vai tutti e tre ci manca poco stortiamo la serie perché secondo me c'è lo stesso attacco di Dismu di Dismu continuare l'onsela distruggi loro o l'ho sentito sai stai buono eh prendi ecco attaccano l'uomo e dovrei curare il gruppo in un bel come la 11 6 1 8 4 6 6 4 6 6 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 9 10 tirare la vita vero? I sordoni c'è da invece. Torniamo indietro. Ah questo pezzo di strada curiosità è meglio non curiosare troppo perché dopo ci si mettono a 90 e ci ammazza. Noi andiamo in questa stanza che in teoria è vuota. Ok fino adesso tutto bene niente tra il cibo 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 ci sei viva. Curati pure tu va. Yamma yam. Attenzione. Il nostro lupo è stare sempre lo stesso ma cosa dici? Ah voglio il cibo. Bagnate. Non abbiate timore. Così. E io invece continuo. Eh eh c'è tesoro vizio. Speriamo che non è un'altra bufala. Una trappola. Eh adesso. Ce l'abbiamo la vanga. A mano. Eh vabbè. Con le nostre strade di iron dovresti rispondere sulla carne. E un punto indefatigabile. Abbiamo finito le torce. Porca miseria. Occhio. Oh. Vediamo bene. Vediamo un po'. C'è anche quello di scuola. Non so se ho fatto bene. Ma vedi. Questa è una venina pure. Buona. Buona. C'è morto il maghetto. Unforzente. 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 Aia. Ho fatto la scella. Attenzione. Io devo curare. Pure il critico. Mamma mia. No il tank no. 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 Aia. Oh mamma mia. No. 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 Allora. Stai dicendo adesso. Cosa si. No. 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 Nooo! Ah, sulle sogni della morte. Ok, allora do ho calcolarlo di forza. non si muore non si muore non si muore con questo muore 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 tutti dai l'arciario non dovrebbe morire vai vai infatti il bottino è lo grosso dai rischi troppo oh no aspetta 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 fammelo aprire lui ok è buono 8 non è abbastanza spazio ecco e dobbiamo buttare qualcosa che butto che butto la cosanta cosanta che beh ci ha accettato la roba ma porca in serio porca vabbè via andiamo a casa bel bruzzolo buono 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 ok 20 danni ha stress e rovine vabbè una porca questa c'ha paura dei varu però parassie delle fogne problemi di sproversione delle fogne non si sa perchè hanno sti tratti così hanno spoccato non in guardia meno velocità un primo round meno vabbè buonissimo però 5 in più precisione abilità a distanza era meglio non salire del livello cioè i tratti di video degli vedi i tratti di video potranno aumentare permanenti ah i tratti di video degli permanenti costranno di più per essere rimossi perchè si fanno rimuove addirittura abbiamo completato una missione delle tante cosa abbiamo sbloccato? una taverna freschi cagli card e ruomini promisano solace per gli sbagliati e sbagliati cerca l'attività migliore per ogni eroe la quale dipende dai loro tratti assegna un eroe un'attività e bloccalo per l'attività fino a settimana successiva ok va bene quindi questo che fa qui? questo è che sta godendo questa attività ah quindi tappa un buco abbazzo chiostra penso che la stessa cosa la stessa cosa la stessa cosa ah per ora non ce li butto qui quindi in carovana ah i nuovi eroi qui mi sa che conviene lamentare però non non adesso prendiamoli tutti anzerai anereau erie presi tutti ok vabbè ok possiamo concludere qui fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un like o con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci becchiamo al prossimo video bella rossieee ok ok